dove sono tracciate le strade che portano al successo quali sono i momenti chiave di un percorso di vita o di carriera in uno dei discorsi più citati del nostro tempo quello fatto a stanford nel 2005 steve jobs ricorda che non si possono unire i puntini guardando in avanti si può solo farlo quando ci si guarda alle spalle e bisogna avere fiducia nel fatto che in qualche modo i nostri puntini si uniranno in futuro connecting the dots è il luogo in cui insieme vogliamo incontrare le storie di chi oggi alla guida di alcune fra le più importanti aziende italiane per scoprirne punto dopo punto i momenti chiave i maestri le sliding doors gli errori e le intuizioni che stanno dietro ad ogni storia di successo simone dominici è nato a roma e si è laureato all'università sapienza di roma in economia e commercio ha iniziato la sua carriera in un lever inizialmente nel marketing e poi crescendo fino a ricoprire la carica di vice president della business unit food per l'italia entrato poi in bolton dove ha ricoperto il ruolo di direttore generale della divisione bolton manitoba ed è passato in coin come general manager di coin department store e successivamente è stato executive vice president global market per bottega veneta con responsabilità sull'europa l'america e l'asia nel 2018 è entrato in cotì prima ginevra e poi ad amsterdam dove ha rafforzato la performance della regione emea come executive vice president con responsabilità sia della divisione consumer che di quella prestige ricoprendo anche il ruolo di head of global revenue management accelerando la creazione di valore sostenibile nel 2022 simone è entrato in chico milano con il ruolo di amministratore delegato con l'obiettivo di guidare l'azienda in un processo di trasformazione volto a far diventare chico milano il beauty brand di riferimento in europa è uno dei principali player globali diffondendo la cultura italiana della bellezza facendo leva sul nostro patrimonio e sul nostro dna a connecting the dots oggi abbiamo con noi simone dominici ceo di chico milano benvenuto simone ciao max grazie a voi è un piacere averti con noi e come sai l'occasione di oggi vuole essere quella di condividere alcuni dei passaggi del percorso che ti hanno portato oggi a guidare una delle realtà più dinamiche in questo momento del mercato della cosmetica non solo in italia ma ma a livello internazionale ci piace ricostruire un percorso guardando un po a ritroso cercando di capire da dove passano le strade che portano alla guida delle aziende strade molto spesso poco poco lineari e caratterizzate da da momenti da scelte e da e da persone e ci piace sempre raccontare le storie un po partendo dall'inizio no da quando persone che oggi sono molto note all'interno della business community come nel tuo caso lo erano lo erano molto meno raccontaci un po che 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 ragazzo eri come era come era il 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 giovane simone quando simone era solo simone ma io max come sai nasco a roma infanzia molto tranquilla devo dire io mio fratello famiglia abbastanza del mulino bianco io ero anche biondo all'epoca non ci potrei credere ora ma ero biondo come il bambino del mulino bianco e ho cominciato subito sport tennis mio padre grande appassionato di tennis quando avevo sei anni mi è iscritto al centro federale al coni e ho fatto dai 6 agli 11 anni 11 sempre in prima media una sorta di percorso di agonistica quindi io mi vedevo già tennista poi a 11 12 anni nel tennis è il momento in cui capisci se uno ha talento e no e diciamo è stato abbastanza chiaro che ero il no quindi ero fino ai 9 10 anni ero nel gruppo della prima scelta del coni già prima seconda media quando c'è un po lo stacco anche fisicamente lo sviluppo sono andato nella seconda scelta e da lì ho capito che mi sono andato al pallone ma poi magari ti racconto del pallone dopo ho cambiato sport per depressione da che lei ha capito che non probabilmente non sarei diventato un tennista professionista ci siamo persi ci siamo persi un talento del tennis ma ne abbiamo guadagnato decisamente uno alla causa del 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 management e tu hai iniziato in quella grande e meravigliosa nave scuola che è stata unilever no per per soprattutto in quegli anni per per le nostre generazioni è stata un'azienda straordinaria perché ha dato un'impostazione nell'approccio al business nei valori nei comportamenti manageriali ha avuto anche dei maestri importanti in questo senso riguardando il percorso nel lever è stato anche abbastanza lungo e articolato quali sono stati i momenti che ricordi come più 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 formativi no prima di unilever forse non abbiamo mai parlato non ti ricordi ma io la mio primo lavoro è stato come revisore dei conti in artur anderson perché all'epoca mi sono laureato la sapienza nel 93 non c'era un'organizzazione che ti indirizzava diciamo nelle nella carriera lavorativa che meglio avrebbe sfruttato il tuo talento identificato il tuo talento e quindi l'ultimo esame che ha votato era revisione aziendale prima della laurea e quindi il professore mi consiglio fra virgolette di guardare delle realtà di revisione aziendale e quindi nelle vari colloqui entra in artur anderson quindi ho fatto i primi sei mesi come revisore dei conti certificatore girando l'italia il primo lavoro mi ricordo a partinico vicino palermo il secondo gioia tauro a fare la certificazione delle concessionarie fiat quindi vedere la valutazione delle macchine sono fatte valutazione corrette dopodiché ho capito subito che la revisione dei conti è bellissimo dopo tre mesi ho cominciato a guardarmi attorno capendo subito che grandissimo rispetto per la revisione dei conti ma non era proprio il mio e quindi a roma c'erano solo due realtà grosse all'epoca che erano unilever o meglio la saggit all'epoca a roma e la procter and gamble la saggit mi fa un'offerta più concreta e entro in unilever e lì ho fatto 15 anni quindi tu mi parlavi del maestro è vero in quegli anni era un po la scuola del marketing dove il junior brand manager faceva tutto quello che oggi magari nelle multinazionali in parte fatto dal corporate in parte fatto dalla filiale lì ogni azienda soprattutto l'italia era un paese molto importante all'epoca prima di lever il brand manager faceva tutto dalla creazione del concetto la pianificazione delle vendite lo sviluppo del prodotto evidentemente alla dinamica commerciale la strategia commerciale di pricing e promo e via scorrente quindi bellissima esperienza lì ho incontrato uno dei miei maestri più importanti tutta la mia sviluppo professionale si chiama daniele bondi col quale ho lavorato fondamentalmente non dico quasi tutti i 15 anni ma buona parte di quei 15 anni poi sono andato all'estero come sai in spagna in inghilterra quindi l'avevo un po perso di vista ma lui c'era sempre a darmi il consiglio giusto e a darmi la direzione giusto e da lui ho imparato il marketing proprio l'abc della creazione del marchio quindi come si crea un marchio quali sono le fasi che deve avere per rafforzare costantemente l'equity della marca come proteggerla da eventuali disruption e come svilupparla del tempo grande scuola quattro salti in padella è stato forse uno dei no delle creazioni più esemplificative di questo di questo momento quattro salti in padella idea geniale di daniele bondi devo dire proprio lui personale perché anche un grandissimo cuoco fra l'altro ha combinato le due le cose noi l'abbiamo seguito in questo percorso ed è diventato uno dei case history del mondo io ci ho lavorato poco ma la sua idea forte poi arriva un momento in cui c'è una prima linea di cesura no di solito l'uscita dal mondo delle multinazionali è un passaggio diciamo di sola andata che che arriva quasi sempre per tutti e che nel tuo caso ti ha portato in una fase altrettanto centrale della tua carriera che è stato all'interno di una delle più belle possiamo dirlo realtà imprenditoriali italiane il gruppo bolton soprattutto e avevo parlato tanto abbiamo anche lavorato insieme tanto in quegli anni a fianco di una persona straordinaria come come il signor nissim no? no signor nissim ripasso dall'unilever alla bolton quindi una realtà multinazionale enorme mondiale una realtà italiana con che era l'inizio della sua espansione vera internazionale quindi da costruire nel suo percorso internazionale cambio anche settore dal food al home care e prende una direzione generale più completa e lì comincio a confrontarmi con quello che tu hai menzionato il signor nissim che è stata la seconda persona dalla quale ho imparato di più anche se ovviamente con buon dio ho più momenti di confronto con nissim erano un po più all'epoca già aveva una certa età ma era attivissimo e ho imparato di raccontare un aneddoto con lui divertente e ho imparato da lui il dettaglio nella cura di un business plan il dettaglio con la quale affrontare una strategia di marca perché comunque si parlava sempre di marca però legata al potenziale di business che poteva avere in tutti i vari settori dove operava la marca e dimensioni geografiche con una cura maniacale ma nel senso positivo di ogni dettaglio di costo ogni dettaglio di voce di potenziale ricavo per non perdere nessuna opportunità per investire sulla crescita ti racconto questo una volta al mese mese e mezzo si faceva una review con lui one to one cioè ti chiamava nel suo ufficio al palazzo che c'era della bolta all'undicesimo piano esattamente senza in fondo tu andavi lì pieno di numeri per fargli vedere cosa stavi facendo come andava il business e lui ti seguiva in tutti i numeri allora iniziamo a questa era la fine del 2008 iniziamo a parlare del budget del 2009 e il 2008 forse ricorderai ci fu una crisi economica dettata dalla grande ris fatta da alcuni istituti finanziari che hanno causato una crisi da una parte inflattiva dall'altra parte di staginazione allora io ho cominciato a sviluppare il piano del 2009 diciamo stiamo affrontando un momento di crisi quindi i consumi verranno previsti così mi ha fatto parlare mi guardava con l'occhio suo sempre molto vispo dopodiché mi ha fatto domenici lei mi parla della crisi del 2008 di quale crisi vuole che io le parli di quella del 29 che ho vissuto di quella della guerra seconda guerra mondiale della crisi del 73 mi dica lei di quale crisi vuole le parla questa la chiamiamo crisi ma è un momento di naturale evoluzione del mercato nel cui anzi è il momento in cui chi investe in maniera saggia e in maniera oculata in maniera precisa con una strategia di marca ben sviluppata è il momento in cui prende un distacco quindi mi aspetto grandi crescite da lei quest'altra quindi mi ha cambiato il budget e di fronte a di quale crisi vuole che le parli rispetto alle crisi che ha vissuto lui ben più forte di quelle del 2008 e l'ha superata diventando uno degli imprenditori più di successo in Italia al che ho accettato il budget che mi ha dato zitto con le gambe stanno lì per fortuna l'abbiamo superato quel budget del 2009 però era stato visionario anche in quello di dire guarda nella crisi se uno ha le idee chiare c'è un'opportunità più che una minaccia quindi prima lezione di business presa e portata a casa straordinaria per il resto parliamo di un uomo che aveva combattuto con i paracadutisti inglesi a El Alamein quindi di che cosa stiamo parlando di quale crisi di quale difficoltà stiamo parlando stiamo parlando e arriva poi anche il momento di chiudere questo questo cerchio un cerchio che peraltro se Unilever ti ha dato la possibilità di avere una rotondità nell'interpretare il ruolo del marketing come elemento centrale all'interno delle dell'industria del consumer sicuramente Bolton ti ha permesso di avere questa rotondità nella gestione di tutta la catena del valore non il modello organizzativo di Bolton è sempre stato ha sempre avuto questa grande peculiarità ed è sempre stata una grande palestra di direzione generale per chi veniva dal mondo delle multinazionali e arriva poi il momento anche di chiudere questo passaggio e di probabilmente di dare espressione a un tratto attitudinale di interesse di sensibilità che era rimasto un po più latente e che ha caratterizzato invece la seconda parte del del tuo del tuo percorso e che inizia con un'avventura nel mondo del retail in modo particolare con il marchio coin assolutamente terzo step della mia diciamo del mio percorso il primo lo chiamerei Unilever il brand dove ho imparato il brand la seconda come una persona vicino annissima continuava a ripetere qua imparerai come si fanno i soldi quindi imparare come si fanno i soldi quindi il P&L il terzo coin è stato un innamoramento subito con un altro capo importante che ho avuto nel mio percorso che tu conosci che è Stefano Beraldo il quale nella sua diciamo sana più che pazzia sana visione di come possa svilupparsi il futuro ha preso per condurre una catena di moda e di retail uno che non capiva nulla di retail e non capiva nulla di moda che veniva da prodotti di on care di fast moving consumer goods quindi ha avuto questa visione dice io voglio una persona disruptive mi ha preso come direttore generale di coin e lì è cominciata un primo periodo di grande apprendimento perché quando si va in una dimensione retail senza un'esperienza retail in categorie mercologiche di cui si conosce molto poco ci si rende conto che ci sono persone molto verticali con 30 25 30 anni di quel settore in cui se poco poco provi a fare all'inizio un po il leader alla unilever style un po autorevole ti prendono abbastonate dandogli tutti i san pietrini e marciapiede che hanno battuto per anni mentre te eri lì a fare le spreadsheet e le tavole sul powerpoint quindi imparare ad ascoltare le persone di retail commerciali di merchandising di operation dopodiché combinando un po la mia esperienza sul brand del unilever la capacità di fare i soldi imparata in bolton mettere a punto la strategia che portasse una catena che non era mai stata negli ultimi anni di successo né profittevole a dargli un identità più premium un po più elevata e questo trasformandola in un contenitore che portava delle esperienze uniche al cliente attirando avvenire più spesso e attirandone di nuovi e questo facendo un po rendere anche più attraente entrare in quel contenitore da parte di marchi più elevati e un marchio più elevato porta una marginità più alta e quindi i conti piano piano riandavano a posto questo insieme a Beraldo che mi ha dato tantissimo all'inizio della sua esperienza retail per far sì che io potessi accelerare il mio percorso di apprendimento devo dire mi ha accompagnato passo passo poi quando ha visto che potevo andare più da solo mi ha lasciato libero lui poi si è occupato della quotazione di OBS quindi aveva anche delle priorità più grandi però visto che si poteva fidare insieme abbiamo costruito il percorso verso Coin e Celsio l'abbiamo aperto di successo e devo dire che è stata un'esperienza anche molto dal punto di vista il retail rispetto all'industria ti colpisce molto più dal punto di vista emozionale perché hai molte più persone con le quali ti confronti vedi proprio il cliente lo vedi davanti a te parli con le persone della tua organizzazione che si confrontano ogni giorno con il cliente nei punti vendita quindi rispetto a una logica industria che è un po' un passo indietro rispetto al faith in the customer l'esperienza retail si è proprio lì ogni giorno quindi hai anche emozioni forte da parte di cose che magari possono andare bene e cose possono andare meno bene dopodiché arriva un altro passaggio ancora più più spinto verso il mondo il mondo della moda verso il mondo del lusso dove hai avuto due esperienze di segno anche profondamente diverso una certamente di successo l'altra molto meno che però probabilmente riviste oggi entrambe ti hanno dato tanto ti hanno lasciato delle cose che oggi ti permettono di fare bene quello che stai facendo no assolutamente io dopo coine comunque c'era il discorso del commuting con mestre nel frattempo ho avuto una figlia a milano con la mia compagna quindi andare avanti e indietro con mestre diventava un po' più complicato nacque la seconda figlia a quel punto decidemmo con la mia compagna che era difficile un'esperienza con me quindi o lei si doveva trasferire a mestre oppure sarei dovuto io tornare su milano diciamo tu conosci un po' la mia compagna evidentemente come non l'avevo convinta a venire a Roma quando io lasciai Unilever in realtà io lasciai Unilever non solo perché mi interessava fare un'esperienza più rotonda come quella che Bolton mi poteva offrire ma anche perché ho conosciuto la mia attuale compagna stavamo per avere la prima figlia e lei a Roma non ci sarebbe mai venuta quindi sono dovuto trovare un lavoro a Milano per virgolette con la mia scatolone con lo spago sono partito su e sono venuto a Milano quindi Coin si presenta dopo Coin queste opportunità di fare un salto nel frattempo avevo conosciuto il mondo della moda questa premiumizzazione di Coin mi aveva esposto tutti un po' brand del lusso diciamo più lusso accessibile ma anche attraverso Excelsior più del lusso diciamo contemporary ma anche un lusso molto alto e quindi sono entrato in contatto con delle realtà come Caring e mi venne data l'opportunità di unirmi a Bottega Veneta un brand che io amavo perché erano negli anni in cui il designer che c'era allora Thomas Meyer era riconosciuto come il fondatore del movimento No Logo che stava prendendo sempre più piede perché una certa tipo di clientela più sofisticata sia europea che americana ma anche asiatica stava cominciando a premiare dei brand molto più understatement molto più sofisticati nella loro rappresentazione quindi molto meno urlati anche nel loro modo di presentarsi e quindi il concetto del No Logo di Bottega Veneta dove il vero logo è l'intrecciato era il pattern ma non c'era mai il brand visibile al consumatore era momento di hype massimo del brand quindi mi venne data l'opportunità di unirmi come CEO EMEA quindi come presidente della regione MEA che è la regione più importante mi unisco e comincio a imparare anche questo mercato del lusso fatto da dinamiche molto più personalizzate dove la gestione del cliente è molto one to one dove anche il training da dare la propria forza vendita non è tanto nei KPI classici del retail, conversione, average ticket, UPT ma quanto nel costruire una relazione di lungo periodo con un cliente che oggi ti spende 5-6 mila euro ma nel corso della tua vita te ne può spendere 200-300-500 mila euro l'anno di prodotti di alta manifattura di altissima qualità quindi in questo step passai da vendere tre anni prima il Vicinet è un grandissimo prodotto ma ovviamente di uso quotidiano a vendere delle borse in coccodrillo dal valore di oltre 100 mila euro quindi è stato questo un po' lo stretch bellissimo che mi è piaciuto di quella parte lì vengo poi promosso come chief commercial officer global comincio a viaggiare il mondo Asia, apro il Medio Oriente con la joint venture ovviamente Stati Uniti molto importanti e lì in Asia bellissima il mondo del lusso in Asia ti porta a conoscere delle realtà a me sconosciute prima non solo dal punto di vista proprio del lifestyle dei clienti ma anche di come andarsi a far conoscere da un certo tipo di clientela che normalmente non vedi nei mall, non vedi nel tuo negozio perché hanno un trattamento personalizzato quindi si entra a contatto con un mondo dal quale puoi capire alcune dinamiche solo parlando con loro altrimenti ti sfuggono prima mi sfuggono completamente e questo mi porta poi come Bottega Veneta a sviluppare un certo tipo di awareness dal punto di vista del mercato per un ex consumer goods che era passato con successo al lusso uno dei pochi peraltro mi viene fatta un'offerta irrinunciabile da parte di un'altra Maison che non apparteneva a un gruppo come Bottega Veneta che apparteneva comunque a un gruppo Kering con una code of principle, code of ethics molto chiaro, molto preciso molto vicino a quello che era un po' il mio background vedi Unilever no, non a caso nel passato uno dei presidenti di Unilever che era stato il mio capo era diventato il CEO di Gucci, Roppolet Robert Pover quindi l'approccio al modo di lavorare, la governance e i propri principi etici, i morali con i quali si gestiva l'azienda Dan Kering molto simile a quello di Unilever vado in una realtà diversa, ammaliato da una job molto più importante perché in quel momento il mio curriculum è abbastanza in hype e non faccio la giusta due diligence avrei dovuto chiamare forse il mio amico Massimo che non era all'epoca, non eri te che mi hai portato nell'altra realtà e avrei dovuto fare una due diligence e capire bene se la realtà dove stavo andando era in linea con la mia personalità, con i miei valori, comunque quell'impostazione Unilever me la sono portata sempre dietro dal punto di vista del rispetto dell'etica nel lavoro, nel gestione dei fornitori, nel gestione dei collaboratori, nel gestione di tutta la governance dell'azienda quindi non ho fatto la due diligence, sono andata in una realtà completamente diversa da quello che è il mio modo di essere, il mio modo di interpretare il lavoro nei confronti di tutti gli stakeholders quindi nel breve capisco subito che non era in realtà dove volevo stare, allora a quel punto chiamo, e lo sto dicendo a lui che non ti conosce benissimo, a quel punto chiamo Massimo e chiedo un'aiuto a lui per andare a cercare delle opportunità più in linea con le mie caratteristiche con Massimo ci conosciamo tanti anni, lui ha capito subito il momento e insieme abbiamo convenuto con una realtà multinazionale nel beauty, dove il beauty, questa è l'intuizione tua Massimo, ovviamente ne abbiamo già parlato, la tua intuizione è che il mio percorso da largo consumo poi retail e poi lusso, aveva tutti gli ingredienti per poter andare a far bene in un settore come il beauty dove in realtà arte e scienza vivono in maniera molto armonica arte che la porta più vicino al mondo della moda, scienza più vicino al mondo del largo consumo, dei dati queste due realtà probabilmente le avevo già interiorizzate dentro la mia individualità, dentro la mia personalità con le esperienze che avevo fatto le avevo meglio assimilate e poterlo vivere in armonia quindi cotì in un momento di grande trasformazione, tu mi hai detto questa è l'opportunità per te perché il beauty e il settore tu potrai mettere a frutto le tue competenze, le tue caratteristiche perché un'azienda in trasformazione ha bisogno di change agent e un po' il mio tratto nelle mie esperienze sarà quella di un agente del cambiamento che tu conosci molto bene e sapevi dall'altra parte chi c'era in cotì e cosa cercasse e quindi hai fatto uno più uno ed è stata una scelta molto molto felice sono andato a Ginevra dove c'era all'epoca l'headquarter di cotì ed è cominciata un'avventura molto travagliata dal punto di vista della governance perché ho cambiato in tre anni e mezzo sono andato a 5 di ho cambiato 5 CEO però un'esperienza assolutamente che rifarei perché ho imparato non solo un mercato quello del beauty che poi magari veniamo all'esperienza di oggi ma ho imparato anche cosa non fare nel momento di una trasformazione aziendale dove mettere priorità e sapere aspettare il momento giusto per fare certe scelte e magari se si fanno troppo presto in una trasformazione si rischiano di bruciare le tappe e quindi è stata un'esperienza per me bellissima nel cosa ho imparato cosa ho dato e cosa ho ricevuto poi passa qualche anno arriva un'altra telefonata una telefonata che ti prospetta quella che è la storia di oggi un'azienda come Chico Milano che aveva vissuto una prima fase di grande crescita poi un momento di di contraccolpo soprattutto su alcuni mercati a livello internazionale un'azienda che in quel momento era un po' orfana di una persona che l'aveva guidata negli ultimi anni una persona sicuramente di grande impatto di grande carisma che aveva fatto una scelta diversa come guardi questa sfida nel momento in cui ti viene presentata la possibilità di tornare a lavorare nel mondo dei fondi e a fianco di un altro abbiamo citato prima il signor Nissim uno dei più grandi imprenditori di questa fase storica dell'industria italiana parliamo ovviamente di Antonio Percassi che tipo di sfida ti viene proposta e come la state affrontando? ma la sfida era quella di rilanciare un marchio che aveva fatto la storia del beauty in Italia e anche fuori perché nel momento in cui Chico viene lanciata nasce come sai Chico Milano nasce nel 1997 dall'intuizione di Antonio Stefano Percassi di creare fra virgolette lo Zara del beauty i primi anni sono stati anni di apprendimento ma dall'inizio del 2009-2010 è stata una grande crescita ed il marchio mi ricordo quando ero in Covid nel 2012 mi chiamo un area manager un giorno e mi dice deve venire a vedere questo negozio Corso Buenos Aires perché c'è la fila che non ho mai visto in un negozio io sapevo cosa era Chico ma non lo conoscevo così bene allora sono corso a vedere era una roba gli occhi scintillanti delle clienti che entravano e uscirono da lì sembrava ovviamente un candy shop per bambini quindi le ragazzine che facevano una fila di ore per potersi prendere un rossetto una mascara, una luce da là quindi ha creato, ha disrupted the market poi per una serie di eventi, per una serie di circostanze ha avuto dei momenti difficili arriva il Covid e evidentemente il Covid è un'azienda prettamente retail impatta molto più soprattutto un'azienda che era molto concentrata in Italia, Spagna e Francia che erano paesi molto impattati dal Covid quindi la sfida è quella di rilanciare un marchio che ha avuto un enorme successo nella sua prima parte e che ora sta vivendo un momento un po' più appannato e grande sintonia con la persona che ha nominato Antonio Percassi che è un imprenditore visionario che negli anni aveva costruito tante realtà di successo della quale credo quella di cui vada più fiero ma qui non mi permetto di interpretare il suo pensiero sia l'Atalanta naturalmente e di accompagnare la famiglia che all'epoca era insieme a un private equity in questo rilancio della Kiko io l'avevo un po' studiata la Kiko Milano perché comunque conoscevo il beauty abbastanza bene e il segmento del make up in particolare e io avevo l'idea che fosse quello che gli inglesi dicono con Jewel in the Rough era già un brand era un brand di premium quality trattato come un mass retailer e quindi l'execution che aveva avuto negli ultimi anni non dava dignità a quello che era la possibilità l'opportunità di questo marchio premium che non era ancora un marchio ma che lo era dentro solo levando un po' di polvere e facendolo lucicare così come era splendente negli anni 2012-2015 quando aveva avuto quell'espansione fenomenale quindi ho riguardato un po' la storia e ho visto quali erano i tratti che l'hanno reso di successo e diciamo che cosa c'era bisogno per renderlo più contemporaneo l'ho condivisa con Antonio Percassi ci siamo trovati in sintonia quindi abbiamo trovato subito un terreno fertile per poter cominciare una trasformazione che ha quasi due anni data da quando l'abbiamo cominciata devo dire ci ha sorpreso in positivo per quanto quanti risultati concreti ha portato ma anche come è riuscito ancora una volta a disrupt the market a portare un elemento disruptive in un mercato molto grande dominato da grandi player mondiali in cui l'agilità che un player emergente come Chico Milano può avere è quella di intercettare il render di mercato dal punto di vista del prodotto dal punto di vista dell'abitudine del consumatore dal punto di vista dello sviluppo dell'omnicanalità saperli prendere questi trend interpretarli in maniera più agile rispetto a grandi gruppi ed essere più rapido per andare a proporre delle soluzioni vincenti o se non vincenti andare a capire come poi farle evolvere in vincenti quindi è stata una so far come si dice una journey adrenalinica bellissima e anche ancora qui un'altra tua intuizione Massimo non per plagioria perché sei qua perché quando tu mi chiamassi hai detto questa è l'opportunità per te conoscendo un po' il mio profilo creando le mie caratteristiche avrei capito che c'era bisogno diciamo delle mie caratteristiche per poter fare questo lavoro intenso, bellissimo nella quale c'è molto da fare e questa è la cosa bella cioè quando si ha una trasformazione in cui già si è affasta una prima fase di successo ma si vede già quale possono essere i next step e si mette anche è più facile mettere energia nel gruppo ecco proprio dalla parola gruppo ripartirei cioè credo che uno dei segreti del successo come siete riusciti a mixare bene elementi di continuità persone che in qualche modo avevano fatto la storia di questo brand e di questa azienda con persone che invece portavano sensibilità, competenze diverse dal mercato credo che il mix, averlo dosato sia stato uno degli elementi chiave unitamente alla governance che hai citato prima beh la squadra non ne abbiamo parlato prima un elemento importante diciamo di tutte un po' le mie sfide è stato quello di quando ne ho avuto l'opportunità di costruire una squadra che in qualche modo avesse tutte le componenti per poter lavorare in armonia ma per potersi anche dare delle sfide l'un con l'altro al suo interno quindi elementi con un'orchestra che sappiano suonare individualmente il proprio strumento ma che sappiano capire come il proprio strumento sia in funzione del suono totale che esce dall'orchestra questa è un po' la cosa che mi piace fare non sempre ci sono riuscito bene qui in Chico devo dire che l'opportunità che mi sarà data è quella di essere molto libero nelle scelte e trovare i giusti componenti per poter sviluppare un suono anche anaspective per me quindi la cosa bella è stata quando si costruiscono delle squadre diciamo di successo è che il primo essere un po' sorpreso sono io perché vengo sorpreso dalla potenza della squadra dalle cose inattese che mi portano e dal fatto di vederli ingaggiati uno con l'altro e ognuno celebrare i successi dell'altro perché è solo così che si può costruire un successo più grande e comune questa trasformazione culturale che stiamo facendo con la squadra in Chico sta apportando un'energia nel gruppo oltre 7.000 persone che abbiamo in 60 paesi molto forte è secondo me un elemento importante questa energia che ci può contraddistinguere nei confronti di grandi gruppi che evidentemente hanno dei mezzi molto più grandi di noi noi cresciamo di più ma anche se cresciamo il doppio di tutti gli altri player sempre molto più piccoli rimaniamo questa energia che il team e che il gruppo sta sviluppando secondo me è l'unico propellente naturale quindi ecosostenibile che abbiamo per poter continuare ad accedere ai più degli altri vedo la fortuna di conoscerti da parecchi anni ho avuto anche l'occasione e la possibilità di parlare con molte delle persone che hanno fatto parte dei tuoi team da chi si ricorda di quando eri un group product manager un marketing manager nell'unilever che abbiamo ricordato alle persone del tuo team in Bolton Manitoba a chi ha lavorato con te nel mondo retail tante persone che sono transitate nella tua area di influenza negli anni di cotiche come hai citato sono stati anni molto articolati dove la governance e l'assetto organizzativo del gruppo direi quasi anni molto tormentati in questo senso e ovviamente oggi molte delle persone che fanno parte di questa bellissima avventura di Chico e se si parla di te la parola leadership è una di quelle che emergono più più forti, più ricorrenti perché tu sei sempre stato qualcuno che è in grado di veicolare il consenso le energie, le visioni, le emozioni riguardando un po' a ritroso è qualcosa che hai sempre avuto è qualcosa che hai coltivato e oggi quali sono i tratti che secondo te caratterizzano il tuo modo di guidare e orchestrare questa squadra ma probabilmente diciamo l'elemento sociale è sempre stato un elemento caratterizzante mi ricordo da quando ho parlato all'inizio di quando facevo l'agonistica a tennis dai 6 agli 11 anni uno dei motivi per cui forse il mio talento non era così forte, non lo nutrivo è perché creavo sempre dei gruppetti che a un certo punto a metà delle due ore di atletica che ti facevano fare scappavano e andavo dell'una park lì vicino mezz'ora e tornavo mezz'ora dopo quindi capacità aggregativa anche di combinare qualcosa non proprio corretto in quel caso no, il mio elemento sociale è sempre stato forte probabilmente quello che ora sto maturando di più con gli anni è il godere di vedere persone che crescono grazie a qualche cosa che ho contribuito io a dargli quindi vedere quando una persona cresce, quando un gruppo cresce ma anche l'individuo perché a me piace parlare di gruppo, di squadra però poi alla fine la differenza mi piace vedere negli individui e quando delle persone crescono in alcuni aspetti della loro professionalità ma anche forse dei loro tratti personali grazie magari a qualche cosa che gli ho trasmesso io direttamente o indirettamente in maniera più o meno voluta allora quello è un momento che mi rende molto soddisfatto perché vedo una legacy vedo quello che è qualcosa che rimarrà più di quanto rimarrò io probabilmente no e quindi vederlo negli altri è una cosa che oggi mi da energia e mi da voglia di continuare a farlo sempre meglio come si impara ci sono tanti corsi che magari ho fatto, l'Unilever è una delle prime che ho investito tantissimo in corsi ci vorrebbe un'altra puntata per parlare di alcuni corsi Unilever ma te ne dico solo uno o due minuti un bellissimo corso che si chiama leaders into action fondamentalmente lì avevo 31 anni, 32 anni insomma un giovane dirigente ti dicono fatti trovare questo giorno in questo luogo senza niente tu vai solo col passaporto vai i primi due giorni mi hanno fatto fare infermiere in due ospedali a Milano in cui ovviamente ti presentavano come infermiere al paziente ma non operavi sul paziente c'era tutta un'organizzazione che poi tutelava il paziente però fai due giorni da infermiere poi ti prendono e ti portano su un aereo senza dire dove vai e catapultato in mezzo alla Croazia con un'ottantina di persone di altri paesi sempre dell'Unilever e lì due CEO dell'Unilever all'epoca erano John Fitzgerald e Anthony Burmans ti parlano dei valori dell'Unilever di come la vogliono trasformare quello che sta diventando e lì cominci tre giorni di campeggio in cui parli insieme agli altri di che tipo di cultura vuoi creare per l'Unilever del futuro qui avevo 32 anni ed era un momento in cui ti devi mettere proprio in discussione al 100% perché ti mettono in contesti in cui non sei abituato e non ti avvisano non ti preparano e quindi o ti adatti e nell'adattarsi scopri delle cose di te oppure alcuni per esempio sono messi a piangere alcuni hanno fatto delle reazioni un po' estreme e devo dire nel mio caso invece mi ha aiutato a farmi delle domande su me e a farmi anche accelerare la crescita. Simone, un'ultima domanda prima di lasciarci. Guardando un po' a ritroso, quando ci sono quei momenti dove la strada non è così chiara, dove le cose da fare non sono così chiare, dove la scelta se rimanere o cambiare o provare a cambiare lo stato delle cose non ha una risposta evidente. pensando alle persone che ascoltano questo podcast, molti dei quali ovviamente si trovano da qualche parte lungo questa strada, rispetto a quei momenti dove appunto le cose da fare o da decidere non sono così chiare, che suggerimento ti senti di dare? Ma è sempre molto difficile dare suggerimenti in questo caso, però posso dirti quello che ho imparato io che magari non vale per tutte le persone e in tutte le circostanze. però la prima cosa è che bisogna sempre capire se si sta scappando da un posto o se sta scappando da se stessi in quel posto. e se si ricade nella seconda bisogna prima ritrovare se stessi, perché altrimenti è un continuo scappare. dopodiché bisogna bene analizzare se, anche nel primo caso, se la performance nel posto dove stai non ti soddisfa perché le circostanze non lo permetterebbero o se il tuo approccio non è stato quello corretto. dopodiché se si arriva alla scelta dopo un po' di anni che non è la situazione corretta oppure dopo pochi mesi, come è capitano a me quella volta, ma lì per una non fitting proprio valoriale. e allora bisogna capire dove il proprio talento può fare la differenza. e lì deve essere molto bravo l'executive search, il massimo picca della situazione che ti deve aiutare a capire dove tu puoi fare la differenza. perché poi alla fine la soddisfazione si trova nel momento in cui si percepisce di fare la differenza in un posto e si fa la differenza sulle proprie aree di forza, difficilmente lo fai sulle tue aree di debolezza. identificarle quali sono le tue aree di forza, come nutrirle per farle diventare ancora più esplosive è un lavoro che bisogna fare ognuno con se stesso, ma che ripeto, se ci sono delle persone tipo te che ti aiutano nell'identificarle facendoti fare i ragionamenti giusti, quindi tu non mi hai mai dato una risposta. mi hai sempre fatto la domanda giusta che mi faceva venire a me una risposta dentro di me che magari già c'era, mi aiutavi a trovarla. quindi questo è capire bene, una volta che si è deciso di andare via da dove si sta, qual è la storia sulla quale noi faremo la differenza. identificata ci ti va l'energia e se la scelta era giusta si farà la differenza con soddisfazione personale, soddisfazione evidentemente della realtà dove si è andata a fare questa differenza. Simone grazie di aver passato con noi questa ora, grazie di aver scelto Connecting the Dots per raccontare la tua storia e grazie di tutti i grandi contenuti e spunti di grande ispirazione che hai voluto condividere con noi. grazie Massimo e ci vediamo presto. grazie di aver ascoltato Connecting the Dots il podcast esclusivo di Shabberton Partners seguiteci per rimanere aggiornati sui nostri contenuti e visitate il nostro sito shabbertonpartners.com grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti